Una buona giornata, ben ritrovati dalla redazione di Sette in Punto. Questa mattina ci occupiamo del MUSV, una realtà particolare, molto bella, molto interessante. Il Museo della Medicina di Padova, di cui noi ci siamo già occupati. È un museo giovane, tutto sommato, ma insomma con un sacco di iniziative e di proposte. Però questa mattina vogliamo parlare di quello che il MUSV fa per la fascia più giovane, quindi per i bambini, anche molto piccoli, e poi anche per i ragazzini, per gli adolescenti. Lo facciamo con Maria Stefania Minervini, benvenuta Maria Stefania, project manager del MUSV, che significa? Significa un coordinatore delle risorse e delle attività. Delle attività e con Laura Caputo, benvenuta anche a Laura, che è la responsabile degli eventi proprio per i più piccoli al MUSV. E la vediamo circondata da che cosa? Una scatola, una valigetta quasi magica? Abbiamo portato una valigia piena di alcuni materiali che utilizziamo per coinvolgere i bambini che vengono al museo. Abbiamo sia dei modelli anatomici per cercare di spiegare un po' meglio come siamo fatti, come è fatto il nostro corpo, ma poi abbiamo anche tutta una serie di lavoretti che nelle nostre attività facciamo realizzare e poi portare a casa i bambini che vengono. Per esempio c'è un cervello, se riusciamo ad alzarlo un po', così. Ecco qui, questo è un cervello, facciamo vedere. Sì. E questo ci serve un po' per capire l'anatomia, come è fatto, come è suddiviso, il cervello, il cervelletto e come si esplicano le varie funzioni nel nostro corpo, ma poi abbiamo qui invece un cervello di carta, una sorta di cappellino che i bambini possono realizzare e poi indossare per capire nelle varie aree quali abilità si sviluppano, dove si trova il senso dell'olfatto, dell'udito e poi parliamo anche di queste capacità, le mettiamo un po' alla prova, cerchiamo di capire perché annusiamo, quanti odori riusciamo a sentire, cosa succede a livello invece del gusto, delle papille, quanti gusti appunto riusciamo a percepire nella nostra bocca, assaggiando varie cose, anche quelle che magari non ci piacciono. Certo. E alleniamo un po' anche la voglia di mangiare cose che magari non apprezziamo subito. Così magari i genitori ringraziano. Esattamente. Allora, partiamo anche dal musume perché noi ne parliamo come se lo conoscessimo ed effettivamente lo conosciamo, ma per spiegare diciamo a chi non sapesse di che cosa si tratta. Sì, il musume è una realtà che mi piace ancora definire nuova, un po' perché ha solo tre anni di vita, è stato inaugurato a giugno del 2015, un po' perché cerchiamo di fare in modo che resti nuovo, nel senso che il nostro scopo dal momento dell'inaugurazione e dell'apertura è stato quello di proporre un museo comunque che si rinnova, quindi che possa offrire e dare delle proposte al pubblico che vanno al di là dell'esposizione fissa con le esposizioni tematiche e con questi appuntamenti che settimanalmente offrono ai visitatori comunque dei nuovi contenuti. La cosa che sorprende di più chi arriva al musume per la prima volta, forse ci sono anche più cose, è una struttura particolare questa perché è nel cuore di Padova, è stato oggetto di una ristrutturazione importante. Stupisce chi non conosce bene la realtà, il fatto che sia dentro una struttura, un palazzo storico del 1414 e la cosa bella che viene raccontata al suo interno è proprio che questa struttura è stata innovativa sin dai suoi esordi, perché è stata un ospedale, ma un ospedale nel senso moderno del termine, siamo in anni in cui l'ospitalità, il termine ospedale deriva da ospitalità, era quella la funzione principale, facevano ospitalità, viandanti e pellegrini, invece quell'ospedale diventa un ospedale in senso moderno, nel senso che si fa proprio pratica clinica. E quindi è questo un po' che si racconta. Poi a Padova c'è l'università, la facoltà di medicina si lega. E tutti questi interlocutori sono presenti nel musume, perché il musume è una realtà innovativa anche nella modalità in cui viene gestito. Per esempio si arriva e cosa succede? Perché già inizia l'interazione. Esatto, si viene accolti da delle guide virtuali, diciamo che lo scopo è stato quello di dare la possibilità anche a chi non volesse insomma usufruire di una guida fisica, di poter invece avere una spiegazione tramite dei portoni, quindi si vengono, si può bussare alle porte delle varie guide che poi tramite un portone virtuale racconteranno ai visitatori il senso e il contenuto della sala che stanno visitando. Per capire anche quanto moderno sia questo museo voglio dire insomma a chi ci sta guardando che per esempio una delle ultime iniziative ha coinvolto degli sportivi d'eccezione che vi hanno fornito parti del loro corpo, quelle che sono diventate effettivamente a parte del loro corpo. Sì, questa è un'iniziativa recente fortemente voluta dalla fondazione Musme di cui fanno parte gli enti pubblici cittadini, quindi la provincia come proprietaria dell'immobile ma poi anche il comune di Padova, la regione Veneto, l'università, l'azienda ospedaliera è l'ASL ed è un'installazione che racconta proprio tramite degli oggetti messi a disposizione da atleti molto conosciuti quindi Alex Zanardi, Beatrice Vio e Martina Caironi hanno donato parti dei loro supporti e il nostro obiettivo è stato quello di metterli in mostra non tanto per dare visibilità a loro che sono molto conosciuti, ma per dare un messaggio invece di positività e di possibilità a tutti coloro che sono colpiti da una disabilità e l'abbiamo voluta inserire proprio nella sala che parla di terapia perché per loro è stata una terapia allo sport e quindi a completezza dell'offerta che viene proposta in quella sala anche questa installazione parla di sport come terapia. Ed è la massima espressione di come la tecnologia e la medicina si siano messi assieme soprattutto in questi ultimi anni per far sì che la vita di queste persone possa comunque essere positiva, insomma non soltanto positiva nel loro caso nel caso di questi tre grandi atleti anche ricca di successi addirittura a livello planetario. Infatti anche le loro testimonianze il giorno dell'inaugurazione andavano in tal senso cioè invitavano a pensare alla tecnologia come ad un supporto per lo sport sicuramente ma per la vita quotidiana di chi è colpito da una disabilità. E poi arrivano questi bambini, no? Le attività con i più piccoli sono cominciate, insomma il museo abbiamo detto insomma è stato inaugurato tre anni fa e già da un po' Sì, indicativamente lo scorso anno abbiamo cominciato Diciamo che una buona parte del pubblico che arriva al museo è un pubblico di famiglie, di persone abbastanza giovani anche se abbiamo, poi ricopriamo un po' tutti i target Noi i ragazzi li abbiamo conosciuti nel tempo perché sono arrivati prima con le scuole quindi con visite guidate durante la mattina generalmente e poi abbiamo iniziato in realtà nell'estate del 2017 a proporre un'attività prima estiva dei centri estivi per sei settimane e da quelli abbiamo estratto alcune attività che erano particolarmente piaciute e abbiamo iniziato a proporle il primo giovedì pomeriggio poi ci siamo spostati invece al weekend, il sabato pomeriggio e abbiamo inventato il format di Esperi Musme Perché poi il sottotitolo bello che riguarda poi tutto il museo è vietato non toccare che insomma ti dice vieni e tocca insomma con mano metti le mani in pasta in qualche modo Sì, perché crediamo molto nel museo che permetta il coinvolgimento di tutti i sensi per un apprendimento più efficace bisogna appunto toccare con mano per capire effettivamente le cose non basta magari sentirsele dire, bisogna vederle, osservare, sperimentare Anche perché resta molto di più, no? Molto di più, esattamente L'esperienza quella del tatto e della vista resta molto di più magari Adesso, Davide Lomonuto ha già fatto vedere qualche immagine di un video che ci avete mandato ma io lo manderei così lo guardiamo perché così vediamo anche i bambini all'opera Grazie a tutti Di solito i bambini diciamo che approccio hanno con perché è vero che hanno molte opportunità i bambini di oggi insomma dal punto di vista dei laboratori, delle esperienze eccetera però in questo caso si trattano temi anche importanti che magari i genitori spesso non affrontano a uno degli ultimi laboratori è stato anche proprio, se non sbaglio, sulla sessualità Sì, allora quello che abbiamo notato è che al museo arrivano bambini di diverso tipo chiaramente alcuni sono molto molto interessati già loro naturalmente per predisposizione alla scienza altri sono incuriositi altri hanno ancora moltissime domande alcuni intervengono insieme a noi nello spiegare perché sono veramente consapevoli di molti aspetti legati al corpo umano altri invece sono davvero molto curiosi e noi cerchiamo di rispondere in maniera semplice e coinvolgente a delle domande che sono anche domande profonde proprio per rispondere ad alcuni quesiti legati alla sessualità perché io sono fatto così, da dove vengo, chi mi ha creato, da cosa sono abbiamo inventato un laboratorio legato proprio al, non lo so, spiegare come nascono i bambini forse diventa anche comodo per alcuni genitori diventa comodo per alcuni genitori e anche lì lo raccontiamo comunque con parole che vengono pensate opportunamente per spiegare questo argomento magari anche a dei bambini che devono ancora affrontarlo a scuola questo argomento magari si inizia ad affrontare in quinta elementare però ai laboratori partecipano anche i bambini della prima, della seconda, della terza e allora raccontiamo un po' la storia della vita cioè raccontiamo che veniamo tutti da un ovuletto e da uno spermatozoo quindi due cellule date dalla mamma e dal papà e poi è stato interessante far capire ai bambini che siamo in genere fatti di cellule che queste cellule possiamo perderle e si rigenerano questo concetto li ha scombussolati un pochino l'idea che la mamma e il papà perdessero una cellula per farli nascere li ha turbati poi allora abbiamo spiegato che insomma questa perdita ma ci sono bambini che contestano perché magari arrivano lì e fino ad allora avevano in mente una cosa più che altro magari aggiungono domande alla spiegazione non abbiamo dei grandi contestatori ascoltano, si interrogano, eventualmente fanno delle domande a volte anche domande un po' provocatorie nel loro piccolo però no, delle grandi contestazioni non le abbiamo per adesso avute che siano comunque bambini diciamo sempre connessi, un po' iperconnessi questo lo si riscontra perché tante informazioni loro in un secondo le trovano volendo su youtube o comunque sulla rete spesso senza filtri un po' per mancanza di controllo dei genitori e magari appunto senza un filtro dell'educatore o dello scienziato o del medico insomma o dell'insegnante può essere un po' destabilizzante no? Sì, si percepisce che sono bambini della nuova generazione, digitali però devo dire che sono bambini che sono in genere stati comunque portati a guardare dei contenuti multimediali, scientifici o comunque sono stati abbastanza tutelati in questo sono anche in parte un pubblico di bambini lettori ancora, lettori libri di carta insomma però sicuramente hanno un approccio molto digitale noi cerchiamo comunque di coinvolgerli grazie all'utilizzo ancora una volta di proiezioni, di video il nostro modulo per esempio di laboratorio Esperi Musme si compone di una prima parte di spiegazione dove appunto siamo aiutati da delle proiezioni, da dei contenuti multimediali e una seconda parte invece un pochino più creativa, manuale e in questo senso vediamo che sono digitali perché a volte nell'aspetto manuale hanno bisogno di molto supporto Certo, qui c'è anche il cuore, prima abbiamo visto anche una bimba con in mano il cuore questo insomma affascina affascina quali sono, ci sono magari domande che vi hanno stupito adesso magari provo ad alzarlo io ecco qua eccolo qui perché mi fa un po' impressione avere in mano il cuore anche se questo voglio dire posso aprirlo? Sì sì certo, è fatto apposta Come faccio? Eccolo qui Eccolo qui Sì, qui noi spieghiamo l'anatomia del cuore poi all'interno del museo abbiamo proprio un cuore plastinato che è il visitatore vero che può toccare e la cosa interessante del laboratorio che abbiamo fatto sul cuore è stato quello di far disegnare per esempio ai bambini inizialmente come loro pensavano fosse proprio il loro cuore quindi uno disegna in maniera stilizzata Certo, il cuoricino Il cuore classico e dopodiché invece si approfondisce effettivamente qual è l'anatomia del cuore e al termine dell'incontro lo facciamo ridisegnare e hanno capito molte più cose Ma, e fanno domande per esempio rispetto a questo fanno domande particolari oppure sono già informati, no? perché se sono a livello del cuoricino, quello stilizzato magari Magari le domande che emergono di più sono legate proprio al funzionamento oppure alcuni processi vitali gli interessa il sangue gli interessa la questione dei gruppi sanguigni di cui hanno sentito parlare magari sentono parlare che esiste questa donazione del sangue allora ci interrogano se noi siamo donatori che cosa vuol dire e cerchiamo di spiegare tutte queste cose sempre Bambini, però voi state tentando di coinvolgere anche la fascia un po' più grande parliamo dei ragazzini delle medie Sì, sì diciamo che per il momento siamo ben strutturati sulla fascia delle elementari e quindi ci piace anche poter parlare al pubblico un po' più adulto che forse è un po' più difficile portare al museo di sabato pomeriggio perché hanno già altri interessi invece è molto più semplice portarli in contesti serali allora la notte di Halloween ci ha offerto un pretesto molto accattivante e quindi sono organizzate due notti al museo una proprio la notte di Halloween e una al sabato successivo e organizzeremo una notte in stile musme quindi di nuovo loro saranno chiamati a risolvere un mistero che ha però un senso scientifico è un esperimento che abbiamo fatto lo scorso anno molto apprezzato tanto che scriviamo molto a caratteri cubitali che i genitori sono off limits ma i genitori ci chiamano perché vorrebbero venire ma magari dovreste organizzare una notte per i genitori il prossimo step facciamo in modo che ci siano proprio gli adulti ecco anche perché c'è tutto in un'iniziativa del genere per questa fascia d'età quindi c'è il discorso magari della compagnia del gruppo la complicità perché eccola qui la notte da brivido bisogna in qualche modo risolvere un mistero immagino da quello che si capisce esatto esatto c'è proprio un mistero da risolvere loro saranno chiamati in prima persona arrivisi in squadre a portare a compimento questo mistero ma di nuovo cerchiamo comunque di portarci a casa un contenuto un messaggio, un piccolo insegnamento è ovvio che è una serata di divertimento nessuno vuole far loro una lezione perché altrimenti li perdiamo subito però insomma lo scopo essendo in un museo e non in un'altra struttura è sempre quello di lanciare anche un messaggio che abbia una sua valenza scientifica quindi questa è un'esperienza che probabilmente ripeterete la nostra idea è quella di riuscire a trovare il modo di dialogare con questa fascia di età siamo sicuri che non tutti sono interessati alle stesse cose quindi magari necessariamente all'uscita serale con gli amici che sicuramente si può fare ma si può fare anche in un contesto come quello del museo che è più strutturato e che comunque ti lascia anche qualcos'altro altro divertimento poi però il Musme ha una serie di iniziative che si legano ad altre realtà abbiamo visto l'esempio poi dei tre sportivi però c'è stata da poco anche un'iniziativa che si lega alla sostenibilità al pianeta per sensibilizzare sì, sì, mano a mano che comunque il Musme si fa conoscere perché abbiamo detto che è una realtà giovane stiamo cercando di stringere delle collaborazioni anche con realtà più note una recente è stata quella con Sea Life che è l'acquario di Gardaland sostanzialmente quindi è una realtà molto conosciuta, molto inserita nel territorio abbiamo fatto un laboratorio insieme a loro e parlavamo di salute in senso lato non solamente salute della persona ma salute del pianeta e dei mari in particolar modo e quindi questa iniziativa comunque è stata apprezzata dal nostro pubblico che è un pubblico attento comunque a questi temi e quelli che arrivano da voi spesso poi si sorprendono tant'è vero che poi il Musme ha avuto un'escalation anche dal punto di vista della positività per quello che riguarda i turisti ma non solo perché appunto sì, sì è un pubblico che è partito locale come è naturale che sia e che mano a mano invece sta diventando sempre più diffuso sul territorio nazionale e non solo noi abbiamo, visto che abbiamo quest'anima tecnologica a volte usiamo la tecnologia anche per per farci, per capire, per recepire dei feedback quindi abbiamo un tablet in ingresso tramite il quale chiediamo ai nostri visitatori da dove arrivano e come hanno fatto a scoprire il Musme anche per testare tutti i vari canali promozionali che abbiamo attivato e ci dà un bel supporto avete scoperto che? abbiamo scoperto che è un pubblico che soprattutto nel periodo estivo ovviamente che va un po' a un turismo che segue anche quello cittadino che sempre più è un pubblico che non è più solo padovano non è più solo veneto e non è più solo italiano ma voglio dire in questo perché una volta c'era il passaparola adesso ci sono le recensioni sì, 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 c'è esatto gli strumenti social sono fondamentali in TripAdvisor siamo terzi quindi davanti a noi ci sono delle realtà consolidate a Padova e quindi è sicuramente un canale che ti permette di essere raggiunto e poi le recensioni sono positive è questo che ci dà soddisfazione certo, anche mi è capitato sconsigliandolo consigliandolo con la Cine che poi insomma chi alla fine è venuto lì si sia stupito e non si aspettasse una realtà di questo genere anche perché ricordiamo che sono quanti piani? sono tre piani e la particolarità a nostro avviso è proprio questo mix non è un museo tradizionale con un'esposizione di reperti non è un science center come quelli che si stanno diffondendo nel suo territorio quindi con delle installazioni che da sole diciamo sono autoesplicative si chiamano science center? sì, come il museo di Trento sono tutte realtà che hanno delle installazioni molto interessanti che da sole erogano un contenuto il Musme è una via di mezzo perché ha queste installazioni però sono inserite all'interno di una narrazione quindi comunque è possibile usufruirne singolarmente e portarsi a casa un messaggio ma si apprezza se viene seguita la narrazione e il racconto che viene fatto che dà lustro alla nostra città la parte interattiva procede anche lungo tutto il percorso perché poi ci sono anche dei test sì, ci sono dei piccoli test che hanno lo scopo di far interagire anche il pubblico che viene al museo quindi sono dei led luminosi che fanno delle domande dei piccoli quiz su quanto si è appreso all'interno della sala ed è possibile magari confrontarsi con i propri compagni con chi ha visitato il museo insieme a noi e provare a rispondere, provare a verificare e per quanto per noi sia molto importante l'aspetto tecnologico poi nei laboratori torniamo ad un aspetto manuale cioè sono due componenti che non possono essere separate possiamo far vedere qualcos'altro che diamo? sì, beh, qua davanti abbiamo invece questo modello che abbiamo realizzato con i bambini di catena di DNA si capisce che c'è la mano dei bambini e questi sono gli orsetti gommoni esattamente, la liquirizia che è una cosa facile che poi loro possono ricostruire lo teniamo un po' in alto così riusciamo a vedere lo teniamo un po' in alto, eccolo qua esatto e questo gli permette di capire, di visualizzare una cosa che difficilmente invece sarebbe comprensibile perché comunque il concetto del DNA immaginare che cosa ci sta dentro le cellule che già non sono visibili non è proprio di facile e subito immediata comprensione oppure per esempio qua dentro abbiamo dei modelli che sono semplici ma efficaci per capire il funzionamento dei vari organi in questo caso dei polmoni grazie a questo semplice modello fatto con dei palloncini delle cannucce e un bicchiere oppure ancora abbiamo qua all'interno un lavoro che ci ha accompagnato durante quest'estate questo è il bastone di Ippocrate allora durante quest'estate e durante i centri estivi abbiamo avuto tre personaggi della storia che ci hanno guidato in collegamento proprio al percorso del museo che sono stati Ippocrate Mendel e poi Galileo che non era propriamente medico però un importante scienziato e nella settimana dedicata ad Ippocrate e alla medicina antica abbiamo realizzato questo bastone i bambini hanno capito da dove è nata un po' l'idea della cura che abbiamo ancora oggi alcune cose le ereditiamo dall'epoca e hanno costruito questo bastone un po' diventando anche loro dei piccoli medici e per finire abbiamo dentro questa valigia un po' di mascottine piccole mascotte pelose e morbide che sono dei batteri o dei virus che si trovano anche nel bookshop del museo quindi questo per esempio? questa è una cellula del fegato qua abbiamo una cellula del muscolo elastica delle ossa una cellula invece lipidica oppure ancora teniamo un attimo lì davanti così le facciamo vedere e questo? oppure qua abbiamo il vibrione del colera quindi anche delle cose un pochino più pericolose virus e batteri ecco cellula nervosa se la tieni in mano riusciamo a farla vedere perché poi siamo... ok e alcuni di questi modellini in maniera simpatica li utilizziamo proprio per spiegare dei concetti delle nozioni per esempio ad ottobre abbiamo aderito come museo alla giornata famu la giornata delle famiglie al museo quest'anno il tema che era un tema nazionale era piccolo ma prezioso e abbiamo ancora una volta parlato di cellule raccontato una storia siamo partiti da dei libri facendo un'attività che coinvolgesse tutti i componenti della famiglia certo noi prima abbiamo parlato di attività soprattutto per la scuola primaria e i ragazzi gli adolescenti c'è il baby movement però esatto come museo ci dedichiamo anche ai più piccoli quindi alla scuola dell'infanzia e abbiamo realizzato una serie di letture animate per parlare sempre di corpo umano ma anche di alcuni aspetti più legati alla personalità al chi sono io qual è la parte del mio corpo che è più importante che mi piace di più come riesco a valorizzarla queste iniziative le fate anche con le scuole? sì con le scuole sicuramente le scuole ci richiedono sempre di più i laboratori e proprio per venire incontro a questa richiesta sarà di prossima inaugurazione un laboratorio didattico proprio dedicato alle scolaresche di nuovo è un progetto fortemente voluto di nuovo dalla fondazione Musme finanziato dalla fondazione Cariparo quindi sarà una cosa di nuovo al stile Musme cioè un mix tra tecnologia e laboratorio canonico quindi con i microscopi con la possibilità di fare degli approfondimenti sui temi che vengono trattati a base certo vediamo l'altro contributo video visto che mancano pochi minuti a base a base Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci colleghiamo alla mostra da poco inaugurata dal Comune al San Gaetano sulla Grande Guerra e al Musme c'è un approfondimento invece sulla sanità. Negli anni della Grande Guerra come Padova in quegli anni è diventata un punto di riferimento non solo come capitale al fronte dal punto di vista dell'apparato militare ma anche per l'assistenza ai soldati e alla formazione di medici soldati da mandare al fronte. Allora noi abbiamo fatto vedere anche in sovraimpressione l'indirizzo del vostro sito per cui tutte le informazioni si possono trovare lì. Un'ultima domanda. Quanto importante è il linguaggio? Cioè come tu parli di queste cose ai bambini piccolissimi, ai bambini un po' più grandi, ai ragazzini e anche poi agli adulti? Eh sì, è fondamentale. Lo vediamo dal riscontro che abbiamo anche dai canali social. Questo ci permette di sperimentare insomma una modalità di interazione che non puoi avere solamente all'interno della struttura, che devi comunque proporre al pubblico anche quando dialoghi, quando proponi una nuova iniziativa e quando la promuovi. Certo. L'inaugurazione dell'aula didattica è breve. L'anno prossimo, sì sì, termineremo i lavori entro alla fine di quest'anno. L'anno prossimo. Non abbiamo detto dov'è il Musme, abbiamo detto in centro a Padova. È in via San Francesco. In via San Francesco. Ok, allora grazie mille a Maria Stefania Minervini, grazie. Grazie a voi. Grazie anche a Laura Caputo, musme.it se volete delle informazioni, però il consiglio è quello di andare a vedere, non il sito ma di andare a vedere il museo naturalmente. Grazie a voi, grazie per averci seguito. Poi noi naturalmente torneremo nel corso della giornata con gli appuntamenti anche dedicati alle news. Una buona giornata, se potete, su 7 l'ora. A più tardi. Grazie.